Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo è previsto per giovedì 16 marzo. Dopo il passaggio della debole perturbazione atlantica che ha interessato quasi tutta l'Italia con debole piogge, sull'Italia si allunga l'anticiclone africano. Ovviamente bel tempo, giovedì ovunque non ci saranno piogge, unico evento di rilievo per di più negativo, deboli gelate nelle zone interne del centro nord, è freddo mattutino al centro nord. Massimo intorno a 10-12 gradi sulle coste aderiatiche, 13-15 gradi sul resto dell'Italia.